Ciao a tutti ragazzi, questo è il mio primo video con Thomas Allora, come guadagnare gemme gratis e infinite Gemme gratis e infinite E facilmente Allora, la prima cosa che dovete fare È avere un muratore disponibile Che io adesso non ce l'ho Perché sto costruendo un cannone all'otto Manco 20 minuti E l'altro, beh, mi sembra una difesa Non mi ricordo Ah sì, un estrattore di lisir Allora, voi adesso dovete fare sta cosa che faccio io Quando avete il libro muratore Dovete aspettare una settimana o due per avere le gemme Allora, la prima cosa Dovete aspettare che gli alberi, le rocce e le pietre Si riempie in tutto il vostro villaggio Ma dopo si deve riempire Aspettate una settimana o due Che si riempie proprio tutto Dopo aver aspettato una settimana Che ci sono tante pietre e queste cose Voi le togliete Potete arrivare a 80 o 70 gemme E sono arrivate 63 Adesso non ce l'ho perché le ho spese tutte Perché queste omine Che queste persone, quelle persone Quei piccoli che camminano Aspetta, adesso li trovo Aspetta, aspetta che li becco Vabbè, sono quelle donne che camminano E vanno negli alberi E vanno a depositare le gemme Vanno a depositare le gemme negli alberi In queste piante Ogni giorno deposano due o tre gemme Così quando aspettate una settimana Saranno tante Quando è passata una settimana Voi togliete Così potete avere 80 gemme Queste cose Facilmente Senza fare trucchi Niente Questo è il mio trucco Seguitemi E ci vediamo nel prossimo episodio Di Clash on Clans Ciao